Musica Musica La corda dal lancio Ma non c'è il portato E lo porto Ma allora Una cosa importante Se uno dovesse entrare in quello lì Se uno dovesse cascare E entrare in quello Se non c'è uno Che ti tira fuori non ci risorti Diventa dentro Tu non esci da giù Però vabbè Qui c'è due metri di fondo, guarda lì si può riominciare a navigare, c'è un pezzettino d'acqua per te, dategli una canova anche a loro e la portano giù, vai, no, portiamola a noi, no, quella lì, sì, allora io ho fatto la canova, eh, prende, beh, diglielo alla Ciusi se era la figlia o alla, con il gonfiabile tu ce la fai, e non verrebbe scendere il partito da lì, no, piano piano, vai, vai, forse tu ce la fai con il gonfiabile il più malleabile, fatti spingere dalla Ciusi, vai, eh, addirizza eh, dirittosi, dirittosi, così, vai, diritto eh, vai, vai, va bene, vai, 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 eh, questa la si modella più a C ya casi, si, 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 si. Il teatro, se apre solo la pista, si vede dietro, si vede la camera, si vede. Ah, ti ha fatto anche una manovra, il de borde, vai, senza volerlo, vai, 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 arriva, non si riesce a arrivare, tanto poi ti ferma la vola. Vai, vai, ecco, quando tu vedete che la prua comincia a girare, pagaiate dalla parte opposta, grave, così, così, vai, 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 va la bella luce di tavolare. No, no, ce l'ho io, eh. Facciamo vedere un po' di selvaggio, no? Vai, arrivate fino alle canone. Fresca l'acqua, eh. Vai Giovanni, forza, oggi tu sei alla grande, vai. Oggi tu sei a partire alla grande, vai. No, ma no, ma fin lì tu ci vai, eh. C'è questo fondo, tu ci vai. Ora ci sarà il correntore in dove il Carmine e l'altra ribalta, ti ricordi? Che pesce? Vieni con me, vai. No, tutte e due, insomma, si fa la rosa. Se c'è l'acqua, sì, sì. Se l'acqua è così, la voglia. Vai, ma andate in dove va arrivata. Poi si scende, si fa tanto, tu crede la mia di fare due rome si tutta nella comunicazione, eh. Sì, ma se monti di là forse ti torna meglio. Eh, ora si va nel più stretto, eh. Tra un po' si incontra la canigia, la c'è di bocca. Trova il bilanciamento tuo. Vuoi fare la ripresa, eh? Sì, sì. Vai, vai. Allora, non stare a traccheggiare perché tu ti scosci. Vai. Allora, sono movimenti, se uno ha bisogno da fare, ti stronti tutto. Però, sta un pochino più nel centro. Vai. Ciao, sei da fare. 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 Ciao, sei. Grazie a tutti 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 Occhio Grazie a tutti 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 Vai Vai Grazie a tutti 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 Vai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti